Aspetta di questa macchina, non hai fatto neanche un'altra benzina? Una volta sola Gabbagni, Gabriele Adesso per lo schienale cosa vuoi fare? Un po' avanti Lo schienale o la seduta? Verticale Attaccata qua a seduta Ok Un chienale dall'altra parte Si, perchè questo è quello che è fatto Allora Con questo mettiamo le marce Con quello lo togliamo, lì dentro vedi le marce in seduta Per partire tiene sul freno E leva di destra verso di te Per andare in pista Non dire, cintura Perfetto Metti la prima e andiamo Perfetto Metti la prima e andiamo Fonda Perza ci penso io tu pensa a quello che c'è davanti due mani dove un quarto dopo il semaforo comincia a prendere la velocità mettiamo anche quarta e quinta ma sta ai lato destro della pista vai spandita andiamo già a sinistra ritascio frenata e scagliamo fino alla terra molla il freno letto a sinistra e all'ultimo ci inseriamo in curva ma è come se fosse un tornante poi ritarda, cambia direzione esce a sinistra accelera le maglie cambio cambio prima il gas stai a centro pista metti la sesta e mantieni la velocità perché il cuore vuole per l'antodo che ha fatto è stato troppo largo con quel bagliato c'è il ciclo sui tiding lascia il gas frena forte frena forte non preoccuparti che si muove un pochino scala fino alla terza molla il freno vai dentro destra occhiami un po' di l'antodo l'antodo di più rilascio frena appena appena punta la sabbia vai largo una marcia in più delicatissimo non dare gas un filo più larghi dai rilascio frena frena rimani a centro pista inserisci la curva sfiora solo l'acceleratore di allarghi vai cambio 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 rilascio rilascio larghi dopo il ponte via e freniamo via frena 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 scala fino alla terza basta gas basta gas basta gas faccio il ponte basso il ponte rilascio e rallentiamo frena 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 scala fino alla terza basta gas frena 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 bene è forte questa è un bellissimo ma l'aderenza del full umido è inferiore a metà a metà sì sì a metà di quello quando tu hai bagnato poi adesso quando si bagna dopo che tu hai asciutto per tanto perdi ancora quella saponata sì sì perché secondo me queste sono scaldate stamattina con l'asciutto la spada di colpo eh non è che da vincita bello bello non è che da vincita ma poi ovvio che se sai dei traiettori da bagnato cambia pochissimo allora vedevo che tu devi andare a cercare quelle asciutto dove vado quelle asciutto tengono molto meno che non se prendassi sulle ari qua adesso è posto con la venda io c'ho ancora quattro tacche eh ma vedi che c'hanno quelle asciutto e l'asciutto tiene molto meno che a nonna ti tornerò in sera ok ti ringrazio ciao buonanissima buonanissima ciao ciao